Buongiorno a tutti, sono Matteo Paganini, benvenuti a questo appuntamento con l'analisi dal vivo dei mercati dedicata all'apertura europea. Ieri abbiamo avuto una giornata abbastanza calma, interlocutoria, la definirei, con una volatilità tendenzialmente contenuta con le borse che hanno tentato di raggiungere i punti di resistenza, partiamo giusto da loro, con il DAX che è arrivato esattamente all'area di 9.830 all'inizio di area che conseguivamo come livello di resistenza che si distribuiva tra 830 e 840 per poi iniziare una discesa molto bella e molto ordinata dal punto di vista tecnico che questa mattina credo che abbiate visto, per chi chiaramente si collega ai mercati prima di questo appuntamento, con il mercato che sta provando a scendere, sta provando a scendere in maniera molto buona. Siamo già arrivati sui primi target in area 790, adesso abbiamo i secondi target che si vanno a distribuire intorno a 750, stiamo attenti perché c'è la possibilità di estendere sotto questi livelli nel momento in cui lo stocastico si trovi lontano dalla zona di iper venduto e questo potrebbe sembrare il caso della giornata di oggi, quindi secondi target su questi livelli ed eventualmente delle estensioni anche verso il basso. Lo seguivamo anche su time frame più piccoli per chi ha potuto lavorarlo proprio in intraday puro, fino a ieri dopo che è stato toccato il doppio minimo in mattinata, il mercato è rimasto bene sotto l'area di media, dopodiché è partito con una correzione abbastanza ordinata dal punto di vista tecnico con il mercato che è arrivato nei pressi della media 100 e nei pressi dell'area che avevamo visto molto bene su un grafico orario che corrispondeva all'area di media mobile e ai punti statici precedenti, dove il mercato poi ha ricominciato a scendere, per cui il triplo massimo su cui abbiamo ragionato sul fronte DAX si sta muovendo in maniera buona, ci sta dando dei buoni risultati, vedete dopo aver toccato per l'ennesima volta punti di massimo storico il mercato è riuscito a stornare e su time frame orari ci sta dando delle ottime soddisfazioni con anche i prezzi che stanno scendendo dopo aver toccato i punti di resistenza che stiamo seguendo già dalla giornata di ieri. Se andiamo a vedere il Fuzzi anche lui sta seguendo pedisseguamente il DAX con il mercato che è andato in correzione fino all'area di media mobile a 21 periodi dopo aver rotto gli ultimi minimi che il mercato aveva fatto segnare per poi ripartire nuovamente a ribasso, per cui siamo in una situazione molto buona dal punto di vista tecnico anche sul Fuzzi dove andremo a seguire dei potenziali allunghi nel momento in cui il mercato dovesse tentare delle rotture ribassiste dei punti di minimo da studiare con uno stocastico anche in questo caso impostato a ribasso e lontano dalla zona di ipervenduto. Questa è la situazione delle nostre borse europee con un Nikkei che questa notte è riuscito a scendere e in qualche modo è andato a mostrarci degli andamenti dell'Oien che non sono stati così ben correlati con l'andamento delle borse, ma non possiamo neanche dire che sono movimenti decorrelati, continuiamo a seguire questa situazione, tra poco vedremo anche la situazione tecnica del dollaro-Yen che non è molto bella tecnicamente parlando, ma andiamo a ragionare comunque su qualche livello, con lo Standard & Poor's che se notate sta andando a seguire a livello di future le borse europee con il mercato che rimane tendenzialmente in una zona di congestione. Abbiamo ragionato questa mattina su eventuali punti spartiacque tra potenziali ripartenze e potenziali ribassi, vediamo nell'area che passa intorno a 1965 questa bussola che potrebbe in qualche modo andare a farci intendere una rottura a ribasso, questo lo seguiremo sul nostro forum perché probabilmente saranno movimenti che avverranno questo pomeriggio, oppure una tenuta di questa zona, anche qui l'indicatore, l'oscillatore stocastico potrebbe darci delle buone indicazioni su un'eventuale fine del movimento trovandoci all'interno di una zona che comunque è tendenzialmente una zona di congestione. Ma questo è un altro discorso, lo seguiamo per il pomeriggio, non andiamo ad impostare nessuna operatività sull'S&P per quanto riguarda la mattinata di oggi. Attenzione perché alle ore 13 avverrà la decisione, e questo è un po' il market mover di oggi, sui tassi di interesse da parte della Bank of England, abbiamo, e lo abbiamo scritto questa mattina così come commentato nei giorni scorsi, ragionato su quello che è successo appunto nelle settimane passate con Carney che si è espresso, lo sapete, più volte a favore di un potenziale rialzo dei tassi prima che il mercato se lo aspetti, quindi prima di quello che era stimato come il primo trimestre del 2015, qualche aspettativa si è andata a creare, qualche aspettativa è andata anche a ridimensionarsi dopo i dati sulla produzione industriale e sulla produzione manifatturiera che sono stati rilasciati due giorni fa, dati inferiori rispetto alle aspettative, dati inferiori rispetto alle aspettative, dicevo, ma migliori rispetto ai precedenti, il che è andato in qualche modo a far cambiare idea a qualcuno che si era impostato come in attesa di potenziali mosse di politica monetaria con una diminuzione delle percentuali di chi va a stimare eventuali ripartenze a livello di politica monetaria. Qualcosina ci si aspetta, siamo con i prezzi e con una piccola research che abbiamo fatto noi tra le varie sale cambi, ci muoviamo intorno al 15-20% di persone, di analisti che si aspettano una mossa di politica monetaria, quindi un rialzo dei tassi o una diminuzione del quantitative easing, il che sta a significare un possibile outcome diverso a seconda di quello che succederà. Noi ci schieriamo per chi non va a credere a una modifica della politica monetaria, quindi secondo noi oggi non succederà niente, se questo dovesse essere il caso io credo che la sterlina possa in qualche modo provare a reagire a ribasso inizialmente per poi mantenere i suoi livelli di forza, sappiamo che il cable dopo la forte discesa che è già fatto vedere due giorni fa sulla pubblicazione di questi dati, è riuscito a recuperare in maniera interessante per tornare su livelli di massimo e ci stiamo mantenendo all'interno di una congestione che se andiamo a prendere un grafico a 4 ore è una congestione veramente pulita dal punto di vista tecnico che ci restituisce dei livelli tecnici buoni da poter seguire. Io sto seguendo eventuali storni e continuazioni di queste discese verso l'area di 1,71 con l'area di 1,70 e 90 che se dovesse essere rotta a ribasso potrebbe lasciare spazio a eventuali discese, il trigger passa per 1,70 e 83, l'abbiamo visto l'altro giorno con il nostro trade news per accelerazioni verso 70 e 60 e verso 70 e 40, questi punti che potrebbero essere raggiunti in caso di discesa della sterlina, attenzione che se dovesse partire è un movimento importante a ribasso sulla release di questa decisione da parte della Bank of England, è possibile che possano esserci anche delle accelerazioni sotto l'area di 70 e 40 ma dobbiamo stare attenti eventualmente a posizionarci con degli stop immediatamente in pari ed eventualmente essere pronti a saltare fuori da posizioni prima di arrivare a 70 figure perché il mercato come detto potrebbe andare a reagire in questa direzione nel momento in cui si va a rilasciare questo dato per poi ritornare su posizioni di forza, quello che sto seguendo è un possibile ritorno sull'1,71 da valutare anche su un 4 ore vedendo se lo stocastico continua a essere impostato a rialzo o va a ridimensionarsi andando a raggiungere zone che abbiamo visto anche in precedenza, livello sul quale l'1,71 potenzialmente mettersi lunghi di sterlina con delle strategie difensive secondo i livelli che abbiamo appena visto con l'idea che il mercato possa ripartire verso 71,75 e estendere verso 72 e 72,30. Se dovessimo assistere a delle ripartenze senza passare dai supporti io credo che l'area di 71,75 sia abbastanza critica da poter seguire e si possa andare in qualche modo a ragionare con dei livelli trigger una volta che il mercato dovesse superare l'area di 71,85, sempre per target che passano tra 72 e 72,30. Questa è un po' la nostra idea sulla sterlina. Sterlina che se andiamo a vedere rispetto al dollaro americano, torniamo un attimo su un grafico orario che rimane abbastanza complicato dal punto di vista tecnico per cui preferiamo uscire con la lente di ingrandimento su un time frame più grande anche su un 15 minuti vediamo che i prezzi stanno interagendo troppo con le medie anche a livello di indicazioni di divergenze e quant'altro non abbiamo grandi cose. Dal punto di vista del dollaro americano abbiamo una ripartenza del dollaro concomitante a una vendita di sterline. Se andiamo a vedere l'euro dollaro fa vedere che ci si sta muovendo dalla stessa parte, se andiamo a prendere anche l'australiano abbiamo una situazione simile, quindi si tratta di un acquisto di dollari su tutti i fronti con un acquisto di yen sul dollaro yen, lo yen che sta salendo su queste discese di borse che stiamo vedendo in Europa. Per cui si tratta di una situazione dove il dollaro sta ancora ricercando il suo ruolo, abbiamo ragionato ieri sul duplice ruolo del dollaro americano che sta un po' cercando la sua identità, ma dal punto di vista correlativo possiamo dire che si tratta di acquisti di dollari tranne che sullo yen, il che ci fa pensare a potenziali dinamiche che vedono il dollaro come valuta rifugio, questo dal punto di vista dell'analisi lo mettiamo in cantiere, lo seguiamo nelle prossime ore, già dire i prossimi giorni mi sembra troppo in là, ma operativamente parlando non ci farà prendere nessun tipo di decisione tecnica per le quali andremo a ragionare sui singoli livelli del mercato, guardando i singoli strumenti. Andiamo a vedere l'euro perché ci troviamo in una situazione dove abbiamo avuto un mercato che ha provato a ripartire, siamo arrivati proprio nella zona di potenziale resistenza durante la giornata di ieri, l'area ha tenuto molto bene tra 36 e 25 inizialmente durante il mattino e 36 e 40 nel pomeriggio, dopo che sono state toccate queste due zone il mercato è andato a stornare molto bene verso la zona di 36 e 10 che è quella che stavamo un po' seguendo, per cui tutta l'area di resistenza che avevamo individuato tra 36 e 36 e 25 ha funzionato molto bene, lo stocastico non è entrato in zona di ipercomprato per cui a livello di indicazioni generali per chi poi va a seguire la giornata da solo, avevamo ipotizzato che se avessimo avuto uno stocastico in ipercomprato con i prezzi all'interno di quest'area sarebbe stata una buona idea acquistare dollari americani, chi non l'ha fatto poco male perché il movimento c'è stato ma poi il mercato è andato a girare a rialzo, ora stiamo consolidando sopra l'area di 36 e 50, sopra la media mobile a 21 periodi e sopra i punti statici che secondo il mio parere vanno a rappresentare ancora dei buoni livelli di supporto. L'area che passa tra intorno a 36 e 25, tra la media e 36 e 25 secondo il mio parere risulta ancora una buona area per eventualmente pensare a degli acquisti di euro, meglio se lo stocastico va a scaricarsi all'interno di questa zona ma non è una condizione strettamente necessaria dopo che c'è stato questo aumento di volatilità, per cui l'idea è quella che se dovessimo vedere dei ritorni ancora giù di una decina di punti ci si possa provare a mettere lunghi di euro con l'idea che se il mercato dovesse scendere e rompere l'area di 36 e 10, che è un'area che vedete è stata sentita molto dal mercato negli scorsi giorni, è chiaro non dobbiamo stare a guardare la tolleranza sul pip ma lo sapete noi cerchiamo delle aree, il 36 e 10 comunque è una buona area di attenzione oltre la quale il mercato potrebbe provare delle accelerazioni con 35 e 90 e 36 e 35 e 3 quarti come potenziali livelli di arrivo, livelli che sono stati toccati durante i giorni scorsi, quindi questo è un po' l'outlook per quanto riguarda l'euro, se dovessero ottenere i punti di supporto il mercato potrebbe dapprima tentare il raggiungimento di 36 e 50 per poi eventualmente tentare delle accelerazioni verso l'alto con un 36 e 80 che potrebbe essere l'ultimo target e un 36 e 65 livello sul quale eventualmente andare a tagliare una parte della posizione. Questa è un po' l'idea che abbiamo sull'euro-dollaro, andiamo a vedere anche il dollaro-yen dove partendo da un grafico a 4 ore ci troviamo in una situazione tecnica che non è delle migliori, abbiamo avuto un mercato che è andato a ripartire bene sulle resistenze ieri, non ha superato l'area di 101,85 che era a livello di trigger per pensare a degli ingressi lunghi, se ricordate, siamo scesi nuovamente su punti di minimo, però vedete su un 4 ore diventa difficile adesso aspettare dei punti di pullback, così come guardando un grafico orario, quindi scendendo un po' di time frame, ci troviamo di fronte a una situazione particolare, la volatilità sul dollaro-yen è andata a migliorare un po' rispetto alle giornate di ieri, sembra quasi un eufemismo ma questo è quanto, dal 3% siamo passati al 7% di volatilità implicita, attenzione alla sterlina che come detto e come scritto questa mattina è un po' sotto la lente di ingrandimento questa settimana, con una volatilità stimata a livello di intraday pari all'84%, per cui abbiamo avuto un salto importantissimo dal punto di vista delle volatilità implicite, dei percentili di volatilità sul cable, questo ci fa pensare che tutti i cambi che hanno a che fare con la sterlina, quindi tutti i cross sterlina, oggi possano andare a muoversi in maniera interessante e utilizzando questo link signori potete seguire insieme a noi l'evento, quindi la pubblicazione di questa decisione da parte della Bank of England alle ore 13, ci collegheremo tra i 5 e i 10 minuti prima, quindi dalle 12.50 in avanti c'è la possibilità utilizzando il link che state usando adesso di collegare per vedere come il mercato andrà a reagire. Bene, questo piccolo aumento di volatilità sul fronte dollaro-yen ci fa pensare anche ad aspettare eventuali rotture ribassiste di tutta l'area che passa intorno a 101.40 per vedere delle accelerazioni che comunque non vediamo per il momento sotto area 101.25, se questo dovesse essere il caso è possibile seguire un mercato che va a formare dei minimi intorno ai punti statici precedenti dove dovremo andare a seguire eventualmente uno stocastico che se va a formarci una bella divergenza rialzista potrebbe farci suggerire degli ingressi long da poter seguire, ingressi long che sarebbero buoni dal punto di vista del risk reward a patto che lo stocastico vada a formare una divergenza rialzista perché se il mercato scende anche sotto l'area di 101.20, 101.15 potrebbe continuare il suo ribasso e questa è la strada che seguiremo se lo stocastico non ci darà nessuna indicazione andando a tagliare una parte di posizione sui primi supporti e mantenendolo in un'altra per vedere estensioni verso la figura, questo è un po' il quadro che stiamo seguendo. Sull'australiano invece abbiamo una situazione tecnica che non ha nulla di bello purtroppo, abbiamo un mercato abbastanza congestionato con delle reazioni durante la notte che hanno visto i prezzi tentare prima una salita per poi girarsi a ribasso, questo sulla pubblicazione di un dato sulla disoccupazione che ha visto oltre 15.000 posti di lavoro creati contro aspettative che ne vedevano 12, mentre un tasso di disoccupazione in leggero peggioramento dal 5,9% precedente che era pari al 5,9% che il mercato si attendeva, è passato al 6%, un dato che fa senso dal punto di vista macroeconomico in quanto il tasso di partecipazione alla forza di lavoro è più stabile e più copioso rispetto a quanto succede in America. Il mercato ha provato a salire per poi andare a scendere nuovamente, questa mattina su questi acquisti di dollari stiamo vedendo delle accelerazioni verso il basso per cui stiamo attenti e seguiamolo su un time frame più piccolo, su un 4 ore non si capisce niente, su un orario non si capisce niente, su un 15 minuti stiamo aspettando, come scrivevamo questa mattina, dei potenziali pullback della media mobile a 21 periodi che passa sotto questi punti precedenti che passano intorno a 93,90 per eventualmente pensare di mettersi corti di dollaro australiano e di sfruttare per cui vendita in limit con un buon risk reward. L'aumento di volatilità c'è stato, quindi questo sembra il time frame di riferimento migliore da poter seguire, si sta per formare una piccola divergenza rialzista che operativamente parlando si potrebbe anche provare a lavorare anticipandola però, in quanto siamo su punti che staticamente hanno sentito il mercato, che il mercato ha sentito questi punti, quindi si può provare per chi avesse più appetito al rischio a provare a entrare lunghi già dai prezzi attuali, quindi senza aspettare che la divergenza vada a confermarsi, con dei target intorno qua sopra all'area di 90 per cui si tratta di una quindicina di punti e degli stop subito sotto, siamo con un risk reward di 1 a 1,5 circa, per cui a voi la scelta è un'operazione che io ora come ora non vado a fare, aspetto eventuali ritorni verso punti di massimo, qua intorno alla media mobile con i prezzi sotto i punti statici precedenti per eventualmente pensare di vendere l'australiano. Quindi abbiamo fatto un bel quadro sulle 4 valute che compongono il nostro dollar index, un dollar index che se andate a vedere risulta abbastanza volatile nelle ultime giornate, abbiamo visto come si stanno muovendo le borse, rimangono ancora sotto pressione, vediamo se si stanno caricando un po' per continuare la propria discesa, ma personalmente abbiamo operato sul DAX questa mattina, per cui buono il fatto che siamo arrivati sui primi punti di target, sull'oro, guardiamo anche l'oro perché inizia a avvicinarsi a livelli di attenzione importanti, siamo vicini ai punti di massimo precedenti, ieri ci attendevamo in qualche modo, anche se non abbiamo lavorato su questi prezzi, delle potenziali salite dopo che il mercato era andato a salire sopra la media con le medie impostate a rialzo, siamo arrivati nell'area di 1330, adesso stiamo consolidando, attenzione perché l'idea potrebbe essere quella di sfruttare degli avvicinamenti a questa zona di resistenza per il buon risk reward, per provare a vendere l'oro, con degli stop ed eventualmente dei reverse verso l'alto, io credo che nel momento in cui il mercato si vada ad avvicinare all'area di 1333 con 1332,80 come potenziale livello di trigger, si possano tentare delle salite, salite che se andate a prendere un time frame un po' più ampio e lo stringete, prendete un 4 ore, capite che nel momento in cui dovessimo consolidare sopra gli ultimi punti di massimo, che sono i punti nei dintorni dei quali ci stiamo muovendo adesso, potremmo avere dei prezzi salire anche oltre 1340, per cui stiamo attenti perché un'operatività in vendita con degli stop e reverse sopra i punti di massimo potrebbe essere quella principale da poter seguire per la giornata di oggi. Ok, io direi che ci siamo come aggiornamento per la giornata e per la mattinata, adesso qualche minuto sempre per i trader di FXCM per vedere le vostre situazioni e le vostre domande, ore 13 appuntamento con la Bank of England, ci collegheremo qualche minuto prima, per cui... Grazie. 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 Grazie.